e ciao a tutti ben ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono dobbpc ebbene oggi siamo qui in questo video molto semplice però per chiarirvi come poter restituire il decoder a noleggio del team vision box atmosfera molti utenti me l'avete chiesto e sono qui appunto per chiarire come fare ovvero personalmente io come faccio allora primissima cosa in quanto ci sono appunto le vostre credenziali magari del play store quindi dell'account google team vision come primissima cosa consiglio andare appunto fare il la formattazione ovvero il ripristino del nostro team vision box però ho alcune cose da chiarire per quanto riguarda la parte burocratica amministrativa ovvero i moduli dove inviarlo e a chi inviarlo e cosa metterci dentro il pacco allora io personalmente mi munisco di un cartoncino giusto giusto che entra il mio decoder pacco del decoder facciamo fin da giacca all'interno qua e vado a mettere poi un po di plastica in modo che non prende urti ok anti urto poi seconda cosa vado in posta mi prendo un modulo di questo ok giustamente lo invio in una modalità tracciabile ok e mi faccio rilasciare una ricevuta quando io invio il pacco a chi inviare il pacco i su team sono andato sul sito ho chiamato anche il 187 ho riscontrato un problema ovvero ci sono due moduli cioè il modulo quello per quanto riguarda l'invio perché è a noleggio e il modulo quello dei 14 giorni perché per la legge dei 14 giorni si può appunto fare il recesso io a me in questo caso sono interessato non quello dei 14 giorni ma quello perché l'ho soffritto da due tre mesi ecco qua l'indirizzo mi ha detto il 187 che è cambiato non è più a all'andriano che va inviato ok ma va inviato appunto a team spa sda reverse interporto di bologna dc 24 san giorgio di piano 40 0 16 bologna e c'è appunto il modulo però dei 14 giorni bella problematica quindi cosa succede io personalmente quindi vado a compilare perché tanto questo è il modulo che va all'interno quindi vado a compilare con tutti i dati dati grafici che corrispondono mi raccomando a chi ha fatto l'intestazione del decoder team vision box atmosphere codice fiscale nome cognome provincia che appunto andate a fare noleggio cioè quindi da spuntare noleggio mettete il codice seriale che si trova sotto al team vision mettete il codice del prodotto data e firma e quindi su questo ci siamo io in stampo anche una copia la carta di età e la metto qui all'interno del pacco non del decoder ma del pacco questo qua che invio all'interno e vado a mettere appunto su questo indirizzo ok su questo indirizzo che della posta vado a mettere appunto bologna san giorgio di piano bologna ok quindi perché tanto questo qua è all'interno resta all'interno anche se appunto il modulo è con questo indirizzo di landriano però sta all'interno non è un problema casomai lo cancellate mettete bologna ok però l'importante è qua dove deve andare il 187 mi ha detto che è lì andate appunto a fare ora la procedura di ripristino come si fa basta semplicemente andare su impostazioni ecco qua andate su preferenze del dispositivo ok informazioni andate su ripristino dei dati di fabbrica come potete vedere lì nel link fate ok ripristino dei dati di fabbrica così andiamo a resettare appunto ecco qua fate cancella tutto ok andiamo a cancellare tutti gli accanto google team vision premi video canto di da sonno e infinity plus cioè tutti i nostri dati personali che stanno all'interno ok è giusto così non si danno mai le nostre credenziali per motivi di sicurezza dategli il tempo due tre minuti farà appunto un reset amici cosa importantissima scrive addirittura team mi dice che la copia della posta ok che inviate il pacco dovete inviarlo se voi lo state pagando in fattura dice che ne so con la domicilazione bancaria in fattura dovete inviare la copia della spedizione del pacco a documenti 187 chiocciolotelecomitalia.it se invece voi state pagando con carte di credito paypal quindi il knowledge del decoder dovete inviarlo a recessi web chiocciolotelecomitalia.it ad oggi è così secondo appunto il modulo secondo team quindi qui all'interno mi raccomando inserite tutto telecomando alimentatore team box capo academy e cavo di rete e anche le batterie del telecomando ecco qua la configurazione appunto di ripristino è andata a buon fine ora spegniamo il nostro decoder rimontiamo tutto andiamo a mettere il team box qui all'interno anche il telecomando perfetto cavo hdmi stessa cosa mettiamo nel pacco quindi modulo di dei dati nostri personali ok una copia di carta in data metto anch'io di chi ha noleggiato il decoder che con bacio non mi raccomando l'indirizzo andiamo a nastrare il nostro pacco ed il pacco è pronto a partire basta inviarlo alla posta farci rilasciare la ricevuta la inviamo tramite email agli indirizzi appunto che team ci indica e il gioco è fatto bene cari amici se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace qui sotto iscrivetevi al canale commentate fatemi sapere del più e del meno se avete avuto problemi oppure no ci vediamo al prossimo tutorial un saluto a tutti ciao ciao ciao